Buongiorno, benvenuti a Praline Expo. L'artista di cui vi parlo oggi è Elisa Rossi, nata a Venezia nel 1980. Sin da giovanissima, nutre una grande passione per il disegno. Dopo il liceo artistico, completa la sua formazione all'Accademia delle Belle Arti di Venezia, diplomandosi con una tesi su Nan Goldin. La fotografa americana rappresenta i suoi personaggi sciupati dal tempo e dalle loro abitudini poco ortodosse. Stabilisce così un nesso inscindibile fra arte e vita. Elisa Rossi parte da qui, fotografa ciò che la circonda, in particolare sua sorella Giulia catturata nell'intimità dell'ambiente familiare e costruisce una sorta di bozzetto preparatorio. Poi procede alla realizzazione del dipinto. Poco sensibile all'estetica dell'iperrealismo, però, sceglie una pittura tonale. In questo modo, l'immagine richiama, più che la sfera della realtà, quella della memoria e assume perciò un carattere atemporale. Inoltre, grazie alla luce che si ispira a quella di Jan Vermeer, la quotidianità assume un tono magico. Nella serie di vieto di accesso, l'atmosfera si fa più inquieta. Sembra che la protagonista si senta minacciata e si neghi ai nostri occhi. Il dialogo con lo spettatore viene interrotto, quasi a indicare il bisogno di recuperare l'intimità violata dal nostro sguardo. Oppure, la giovane è simbolicamente ferma sulla soglia. Parallelamente a quella sulla persona, la ricerca di Elisa Rossi si concentra anche sui tessuti. La ripetizione del gesto nell'esecuzione dei merletti diventa come una meditazione sull'atto pittorico, ma anche una riflessione intima, personale. Il suo compito è di tessere una trama, parola che può essere usata anche per la scrittura. Non a caso, la serie successiva si chiama scrittura privata, titolo che indica un tipo di contratto fra due persone, ma che, nel suo caso, è anche comunicazione, dialogo interiore. Nella serie persone, che tradotto dal latino significa maschere, compaiono i vestiti, che proteggono ma contemporaneamente costringono a una sorta di recita. Gli oggetti della quotidianità assumono anch'essi valenza simbolica. Lo stendino diventa un nascondiglio, una protezione. La lavatrice indica un momento di pulizia e rinnovamento. Le forbici tagliano i rami secchi, preludendo a una nuova fioritura, e la chiave segna la fine del divieto di accesso di qualche anno prima. Infatti, nella serie Limine, il tema è quello della soglia, il punto di incontro e di separazione di due realtà. Seduta su un tappeto, luogo di preghiera delle religioni orientali, la donna è impegnata a sciogliere i nodi di una corda, mentre altrove si copre il capo con un fazzoletto di pizzo. Sono espressioni di spiritualità che segnano il confine fra il mondo mistico e quello materiale. Elisa Rossi, insomma, schiudendoci la parte più intima del suo animo, in realtà ci conduce in un viaggio composto di momenti eterni. Vi ringrazio per avermi ascoltato, ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci! Grazie a tutti!